buongiorno a tutti coccodrilli guardate che scenario che c'è adesso 11 e 22 già tutto apparecchiato guarda e già sta a sedere perché vuole mangiare ma come è ma che c'è un burello scemo scusa sa tu sai che se non mangi amore anche questo è vero no perché bisogna andare a fare un controllo a mezzogiorno e 40 all'ospedale per vedere se è tutto ok anche il cincilla vero ma tu sto cincilla la ce lo fa perché magari a tante ce le sono bucì a 93 anni e tu come ce l'è come 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 che fa che fa sto cincilla forte o piscia piano oh no oh no oh no te è bello vediamo se vede bene dopo la cataratta quanti sono questi due questi tre questi cinque questi mettono sul culo quello eh mettono sul culo no si è 41 incredibile sembrava caldo sta nevicando incredibile sta nevicando sta coprendo tutto quanto guardate quanto sta coprendo si riaprono i ski lift i ski pass si riaprono le seggio vie si riapre tutto cortina da un pezzo maier eh selva di valgardena canazzei ortisei in culo maier guardate quanto ha nevicato guardate quanto ha nevicato questa pasta rinevicata con doppia pasta ripastata al triplo pasta asciutta che dieta è è quella che mi fa i cazze mie e poi e poi fai i cazze mie e dopo e dopo vaffanculo nooo 50 grammi di pasta pesati pesati con sotto uno strato di burro che è la fine del mondo comunque non ne capisco che fai i cazze mie quante storie si possono fare su un semplice piatto di pasta è semplice così tac oh eccolo l'amichetto mio andava a controllare e beh controllamo io non controllo niente è lui che controlla se non ci vedi a me tu cocco mio eh oh eh ce lo perderemo o no eh guarda è vero che ci devono aggiornare sul capitano tsubasa oh vaffanculo oh vaffanculo aggiornatemi ci qua siamo dal dottor messina che l'ha operato apra grande la vedi la sua orca o no? ti quince la sua orca vattene apra grande 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 marco ci si è andata bene? eh? che vuoi che c'è una dichiarazione? io è quello che volevo che vado a andare bene oh e siamo tutti contenti è andata tutto bene? sì sì siamo contenti oh vedi che c***o saluto capitano tsubasa o no? caccia dal pallone diventa un uccello che fai? caccia dal pallone diventa un uccello e manda una porta ma chi? eh il capitano buffette subasa 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 come? subasa come? ma vaffanculo io no non insulta il capitano subasa la oh no oh no ha bucato il pallone il tuo giro eh ha preso il tuo uccello della porta e lei come fanno a giocare? viene fino ad un altro ma com'è possibile se hai bucato il pallone? e come? perchè non è possibile di eh leva sti bucciotti perchè? ma cammina va e lo metto sti musicali che c'hanno? ma cammina levele che c'hanno non capisci che sono stupide ma che c'hanno? ma non mica mancano loro per i bucciotti ma chi ce li metti? perchè? chi sarà con lo stronzo per me e mette una televisione ma perchè che c'hanno? che c'hanno? ma che c'hanno? che c'hanno? che c'hanno? che c'hanno? che c'hanno? ma cammina va guarda quanto è embellini si guarda che belli i cappocci si c'hanno anche il merletto della setta non è embelli? eh ma mangiamo? che stai a mangiare? la figa nooo vabbè così in se dice però eh guarda che bel taschino che c'è proprio per la poccina eh? mangia sempre mangiamo mangiamo quadrilli pazzia pazzia andate sul profilo di parisi dakar che ve lo metto qua e c'è il primo spoiler della macchina il suo sound provate a indovinare che macchina è io appena ho sentito devastante troppo bravo ma veramente guarda non te lo dico per fare il ruffiano sei bravo sei proprio veramente bravo sei cocco sei proprio cocco quanto è cocco cocco mio cocco mio ora andiamo a fare un giro con la gianna la gianna di che vogliamo parlare? ah sono innamorato di sto posto io guardate che bello che spettacolo ragazzi buonasera prego prego sono il dottor Battiloni sono venuto a fare un secondo controllo al malato non ho il controllo non ho il controllo non ho il controllo ci entreghe il controllo se è possibile beh posso entrare? prego grazie se è possibile posso entrare? prego prego devo fare oggi anche perché dovrei prescriverle delle supposte eh le supposte mettetele l'uva si abbassa i pantaloni che dopo la visita vediamo se si può le supposte poi sentiamo si giri si giri ecco dite 35 36 tombolata tombolo 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 il cincillato un po' senti se respira mettiamo respira il cincillato va bene va bene s'addrizza pure eeeh sparone qui io prescrivo le supposte sono tu e tu nel duro sono le supposte del mio duro che fanno bene per la salute e quindi io prescrivo una supposta la mattina e una supposta la sera si si va bene quindi mi raccomando la terapia la faccia bene ecco quindi mi sono stato oggi ma quanto è contento il nonno quando viene filiberto cioè io ti seguo l'altra visita perchè ne fido poco di questi altri io ma com'è cincilla com'è molto bene ecco cincilla si risponde no no morto è morto è morto è morto stecchito non si sente più niente tu mi stai mangiando freschi i piedi chi è quello di noi il figlio della mignotta chi è è il figlio della mignotta ma anche oggi sono entrato e noi no ieri sera sono entrato e mi venivano scantiti i piedi queste sere lei dovrà fare anche la visita analogica 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 no lei è sottoposta a visita analogica perché potrebbe anche avere bisogno delle emoroidi non credo quella è una patuta che le fa quattro volte si si delle emoroidi delle emoroidi delle emoroidi non mi tocca una poccina fermate dio va via benedico è un imbecilo viene un po' male padre del figlio del spirito santo amen dottore spirituale è più presto di qui al sud di nemore ma chi l'ha detto tiravo in vento prima di questo è il bene è lui certo che è lui il ritorno del che calore eccolo qua ha avuto problemi con la giustizia non è vero non è vero c'è sempre che calore i problemi con la giustizia adesso è la prima volta che esci a cena fuori che calore va diventare un cantante va diventare un cantante si che hit ce fai? con Mustafa con Mustafa con Mustafa che forma per i viaggi? Marrakesh eh? o Marrakesh vaga a dire per divertimento proprio a dire Marrakesh proprio per divertimento la notte è l'altra ma il cammello il cammello se te lo dice Mustafa tu ci devi andare buono ed efficiente ma veramente no no non c'è soldi niente finita finita ma dov'è col tontomo tutto a canna è un bicicletta no vabbè dovevi oh incredibile bene acquisto del telo eh numero uno solo per gli amici guarda mi è arrivata la notifica adesso guarda è vero vedi è il telo numero uno Sabah Jack con una riuscita bella solda andiamo a freno freno andiamo a freno andiamo a freno freno sta a freno non